sta succedendo una cosa che rasenta l'impossibile stamattina un incontro di mezz'ora tratto e prendo tre unità abitative vado a pranzo in un ristorante e il tipo mi dice senti ma sei pietro riccio quello dei filmari così mi diverto ogni tanto dicono anzi io speravo di conoscerti avevo sentito anche parlare di te da un mio cliente e ho un appartamento in una via ottima di reggio emilia io la volevo dare a studenti ma ho capito che con te è meglio ma io l'ho piuttosto affidato e mentre mangiavo non solo ho preso un appartamento con tre camere in una delle migliori strade di reggio ma ho anche anche fatto una convenzione che lui servirà tutte le mie case con un menù personalizzato un menù fatto apposta per noi adesso ho un appuntamento con uno che mi ha chiamato in settimana e mi ha detto guardi mi ha dato il suo numero uno a cui io avevo uno che siamo amici che vende elettrodomestici che è il grande gidio di reggio è che un mio amico che vende elettrodomestici bravissimo che c'è un po di tutto e a prezzi ottimi mi ha parlato di lei che lei gestisce gli appartamenti con un sistema di affitto buono siccome io mi fido di egidio perché è una brava persona e so che gli amici suoi sono persone per bene se lei mi viene a trovare ho quattro appartamenti e io li affido a lei perché ho un'età e quindi non ho più voglia di smazzarmi di mettermi a stare lì a cambiare le lambatine alle persone ad avere le le rotture che danno gli affitti quindi all'inizio di questa mia carriera di questo mio percorso non carriera o da uno a due case un problema infinito da due a tre esagerato c'era un'altra società c'era un'altra persona per arrivare alle prime dieci abbiamo smazzato oggi credimi stiamo viaggiando con la media di dieci trattative al giorno poi molte le stiamo scartando noi perché adesso scegliamo solo le migliori quindi con questo ti lascio perché sono in macchina ho approfittato di fare il filmato perché dovevo fare un pezzettino brevissimo e ad andatura bassissima quindi nel prossimo filmato ti spiegherò meglio comunque oggi tra quelle di stamattina quelle del durante il pranzo e quelle di stasera saranno più di dieci camere funziona se ti piacciono i miei filmati iscriviti al canale youtube pietro riccio o diventa amico mio su facebook e segui i miei filmati ciao